salve a tutti i ragazzi bentornati su farming simulator 22 oggi vi porto un nuovo video sulla serie tedesca ma prima di iniziare vi invito sempre a iscrivervi al canale se non siete già iscritti a lasciare sempre un bel pollice all'insù e allora ragazzi eccoci qua di nuovo sulla serie tedesca sulla abendfreden finalmente raga ho finito la raccolta delle patate ne ho fatte davvero tante quindi penso che in questa serie non le faremo più casomai le rifaremo su farming 25 allora c'è il biogas pieno pieno di patate c'è la produzione di patatine fritte piena di patate e qua al silos ce n'ho 178 mila litri quindi insomma stiamo bene a patate raga basta così allora intanto restituiamo tutto non ci serve più nulla queste facciatrici ci servono ok allora oggi ma andiamo un po avanti il tempo finalmente e perché voglio oggi voglio un attimino fare le prime venditine e avventi primi pallettini di patate patatine fritte quindi metto un attimino a posto il rimorchio ce l'abbiamo di qua abbiamo questo bel cavanno qua dietro eccolo qua raga oh lo sbattivo lo poggiamo qui perfetto ok allora andiamo a fare un po di ninna passiamo alla giornata dopo quindi andiamo ad october allora devo seminare però però ci abbiamo tempo a ottobre possiamo questo campo a frumento mentre gli altri vediamo più avanti perché allora facciamo il 2 a frumento poi abbiamo il 3 il 4 e in più questi il 5 e 6 che stanno in affitto casomai conviene tenerceli per il momento poi vediamo cosa seminarci a questi quattro campetti dipende poi da quello che vogliamo fare insomma ok quindi dobbiamo solo seminare il 2 a frumento sì abbiamo tempo fino a ottobre perfetto quindi possiamo andare avanti allora mai così diamo modo alla produzione patatine fritte insomma di di lavorare quindi produrre i primi pallettini pallettini vediamo dovrebbe essere pure entrare qualche soldino dal biogas poca roba poca roba me pare insomma che qualcosina in più pensavo ma allora un po il biogas vabbè lavora piano piano che stanno ancora 48 mila litri vabbè va bene perfetto allora vediamo un po vediamo un po mo ci andiamo a noleggiare così lo volevo provare il il camion quello di black sheep allora ce lo facciamo porta qua il pratica il man quello con il muletto che si attacca dietro dovrebbe essere questo dovrebbe sì questo qua questo qua lo trovate sul modab e anche per console quindi mo ce lo prendiamo a noleggio e vediamo un po lo voglio provare raga questo c'è la possibilità di agganciare il mulettino qua dietro che secondo me è davvero comodo va tutto per caricare i pallettini andare insomma nelle produzioni non abbiamo il problema del muletto quindi lo possiamo attaccare dietro e via così evitiamo pure di usare gli autoload quindi abbiamo varie configurazioni potete vedere questo qua chiuso oppure questo con le sponde che si aprono sicuramente questo senza nulla io quasi quasi prendo questo raga facciamo il cassone chiuso marca gomme lasciamo qua possiamo pure scegliere la guida destra o sinistra raga vabbè noi lasciamo questa qua sinistra sticker 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 vedete molto personalizzabile lasciamo questo vabbè lasciamo così ce lo noleggiamo per 4003 perfetto e ci dobbiamo andare a noleggiare pure il mulettino che troviamo in forche vediamo un po eccolo qua il pal finger flc 253 ok eccolo qui ce lo noleggiamo a posto eccolo qua questo sarà andremo insomma andremo a provare questa mod di black sheep allora vediamo un attimino no devo salire su questo no devo salire su quell'altro aspettare allora non so se si aggancia da solo o si aggancia col camion allora passiamo ste forche forse è così o dobbiamo lasciarlo così non lo so sinceramente allora fammi vedere se si aggancia da qua forse dobbiamo ri e va buona no aspetta no forse dobbiamo metterlo così eccolo qua si a posto vedete guardate che bello che comodite no va bene allora andiamo ora ci dobbiamo dirigere alla alla produzione alla produzione di patatine fritte allora nell'ultimo video intanto abbiamo comprato le pecore quindi abbiamo comprato anche la stalla anzi ben due stalle perché comprando comprando questo lotto di terreno qua raga eccolo qua questo qua a destra in pratica ci sono due ben due stalle il pascolo che è questo qui dove abbiamo comprato le pecorelle e poi in più ci abbiamo anche la stalla che sarebbe questa qui eccola qua vedete quindi abbiamo la stalla diciamo al coperto e il pascolo quindi sono due stalle differenti poi compreremo le pecore anche in quell'altra stalla insomma ok e poi che abbiamo fatto abbiamo comprato anche un nuovo terreno ad erba il questo fatto ad elle tra il campo 16 il campo 17 che devo assolutamente falciare quindi vestito lauretti che poi farò io allora tutto conviene passato oddio piano piano non viene passato qua raga abbiamo fatto il giro in pratica quindi sono lauretti che poi mi farò io dopo in modo tale insomma non voglio farvi vedere sempre le stesse cosine e quindi farò un altro un'altra fienaggione nel campo nuovo in modo tale che mi vado a stoccare un po' di balle faccio un po' di scorta insomma per l'inverno e vediamo anche perché quello è un campetto bello grande quindi insomma balle ne usciranno e poi insomma possiamo comprare poi nuove mucche e poi anche altre pecore insomma incrementiamo un po' il bestiame pure noi vediamo dipende tutto pure dalle dai pallettini di patatine fritte che abbiamo vediamo se vediamo non ho controllato perché a volte mi capita che non le è attivo ma è capace pure che non l'ho attivata raga eh speriamo che l'ho attivata perché sennò è un casino raga non l'ho attivata porca miseria porca miseria non l'ho attivata maledetto maledetto a me io sono proprio uno sbadato me l'ha pure detto fausto il mio amico fausto che saluto mi ha detto guarda mi sa che non l'hai attivata la produzione e in effetti mi sono dimenticato di controllare e ecco qua raga mo purtroppo mo dobbiamo fa ho sbagliato perché non posso neanche andare più avanti di questo perché io devo seminare assolutamente il frumento porca miseria mi sono dimenticato di controllare vabbè dai carichiamoci sti tre pallettini vediamo un po' un attimino che riusciamo a fa allora si proviamo pure sto sto camion allora andiamo un po stacchiamo un attimino questo apriamo le sponde c'è il portellone dietro mo non so se questi laterali si apri la totenda perfetto si si può apri tutto in pratica guarda queste qua quindi le richiudiamo aspettate eh spostiamo un attimino questo molto comodo devo dire raga eh questo lasciamo così e ci mettiamo a caricare peccato che polca miseria che sbadato che so raga purtroppo se l'avevo controllato prima sarebbero stati molti ma molti più pallettini e quindi potevamo sicuramente fare un bel carico mo purtroppo ci dobbiamo accontentare era uno spettacolo carica così raga è veramente uno spettacolo vedete che poi è molto comodo abbastanza comodo questo andiamo a fare così vedete ottima mod eh ottima mod ve la straconsiglio ma sicuramente già l'avevate provata perché insomma me che è uscita una mod che è uscita ultimamente eh insomma penso almeno una settimana dieci giorni in pratica poi questo qua dovrebbe dovrebbe pure vedete che fa pure quindi potete pure si può allungare anche vedete allora vediamo un attimino si allarga si inclina bello ottimo ottimo direi ottimo ottimo all'ultimo spingiamo un po le forchette qua le forchette beh mi piace mi piace davvero raga eh per caricare è ottimo quindi mo ci andiamo a vendere sti tre pallettini ma che dobbiamo fare raga purtroppo è andata così dobbiamo guadagnare un po di più dobbiamo vendere soprattutto va bene allora questo mo lo rimettiamo qua dietro ce lo ricarichiamo che dire raga eh a me mi piace mi piace davvero sta mod vedete lo riagganciate a posto a posto rividiamo la tenda attacchiamo pure i pallettini a posto oh eh accendiamo il camion e si va allora patatine fritte ora vediamo un attimino dove andarla a vendere allora vediamo un po vediamo un po mouse alla mano e andiamo a vedere un attimino le patatine fritte eccole qua eccole qua allora 2654 al cinema a Benfreden al cinema ok perfetto contrassegna le portiamo al cinema giustamente insomma cinema più da popcorn che da patatina fritta però allora stiamo vicino allo shop perfetto quindi dobbiamo andare di la bello bello fatto benissimo vabbè mod di black sheep uno dei migliori mod secondo me quindi quindi non c'è nulla da dire comodissimo bello andiamo a pende cammina pure 83 km orari facciamo un piccolo sorpassino e si va e si va dobbiamo andare qua giù e qui giù giusto si eccolo qua eccolo qui lo scarichiamo visto che facciamo le cose come si deve allora andiamo un po' atto stavo facciamo così raga guardate eh facciamo le cose come si deve facciamo pure lo scarico ecco riapriamo la tendina non mi riva sta mini mappa stacchiamo un attimino questo stacchiamo le vicinte qua e andiamo facciamo le cose come si deve facciamo pure lo scarico ok ok faccio screenshot copertina in pratica della del video ecco qua ho fatto la copertina del video questa è la copertina andiamo a vendere le nostre belle patatine qua al cinema arcinemino arcinemino vediamo un po' un pallettino quanto ci frutta eh buono non male 2655 allora quello la dobbiamo fare un lavorettino così abbiamo no abbiamo un po' meglio forse e voilà è è fatta anche la vendita eh si ragazzi qua faremo un bel po' di soldini con le patatine eh peccato che avevamo pochi pallettini però va bene ragazzi dai io mi fermo qui poi questo sicuramente è da comprare lo voglio comprare e quanto costava il tutto vediamo un attimino eh poi appena abbiamo a che soldo facciamo sto piccolo investimentino vediamo un po' dove era 85 più eh il muletto il mulettino quanto costava il mulettino 37 calcoliamo sui 120 125 mila euro ce lo compriamo li compriamo entrambi vabbè ragazzi io mi fermo qui spero vi sia piaciuto questo video eh iscrivetevi se non siete già iscritti lasciate sempre un bel pollicione all'insù io vi ringrazio ci vediamo alla prossima ciao a tutti ciao a tutti